L'assassino farà meglio a scappare, arrivo, devi alzare Se lo vedete, sparategli Dividetevi e cercatelo Sparate a chi vi sembra sospetto Attenzione Ti stacco la testa Arriviamo Arriviamo in 30 secondi Stiamo arrivando dalla strada Stiamo arrivando 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 Ah... Andandola alla caccia grossa! Davvero? Ma a che scopo poi? Quello che dico è che non può essere solo per il cibo! Attenti! Aquila! Aquila! Occhio! Quattro! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.